Buongiorno ragazzi, su SimiCa23 Nuovo spacchettamento perché sono usciti della Maratona e degli Imotum perché sono usciti guardate chi sono usciti, sono usciti Classic Heroes cioè tutti della Coppa America e nuovi Imotum Lukaku, Ospina, Sigurdsson e Almer che ha fatto delle parate incredibili a Ronaldo quindi noi stiamo qui per trovare il loro set e più anche se ci vengono anticiocatori ovviamente siamo anche contenti se troviamo tipo un Messi non un Messi abbiamo già trovato non lo so i antiprecedenti Imotum siamo contenti ovviamente ci sono sempre i soliti pacchetti ecco io ho il Gold Pack quindi cominciamo il nostro spacchettamento con il primo pacchetto con il nostro bellissimo primo pacchetto attenzione veramente ok si sta prendendo perfetto pirlo perfetto primo giocatore del primo pacchetto pirlo ottimo e non risponde che bello che bello che non risponde mai va bene va bene vediamo dopo pirlo che sono gli altri giocatori tutto sto tempo per un pacchetto di merda tutto sto tempo per un pacchetto di merda madonna mia che schifo tutto sto tempo tutto sto tempo per un pacchetto di merda prossimo il prossimo pacchetto il prossimo pacchetto è un'altra ooooh Nesta Legend mamma mia subito così Nesta Legend spumeggiante subito con Nesta Legend il secondo pacchetto ooooh eccolo il Otmo più anche di Bale Bayer in Tots ma l'abbiamo trovato anzi un American Heroes quello lì comunque anche oggi è stato trovato mamma mia anche di Bala guardate che statistica che ha di Bala Tots mamma mia il 98 di merda di Hector Bayer in quindi questo è un ottimissimo pacchetto con Nesta Legend Bayer in di Bala Tots e American Hero o come si chiama comunque Imotume per noi e la maratona continua sempre perfetta 4 video di Imotume 4 Imotume trovati e ora si sta prendo il prossimo vediamo un po' chi troveremo quindi in un solo pacchetto Nesta più 2 Tots più MyCon American Hero ecco qui che si sta prendendo il prossimo pacchetto attenzione bello che bello oh Ronaldo Hero oddio Ronaldo Hero oddio eppure Negoland Tots Ronaldo Hero non ci credo quindi per adesso Di Maria Motume Bayer in Tots Di Bala Tots Ronaldo Hero e Mike Con Imotume mamma mia oddio mio oddio mio andiamo col prossimo pacchetto andiamo col prossimo pacchetto oh Godin mamma mia Higuain oh Nei Martoti mamma mia che pacchetti che ho eccolo due e siamo due due Imotume mamma mia due Imotume per noi e più Nei Martoti mamma mia 93 di velocità mortacci sua Nei Martoti oddio più Hernandez Imotume noi abbiamo già trovato un Hernandez questo però è Abel Hernandez mamma mia Ronaldo Hero e Nei Martoti Barzai anche Barzai anche Tots mamma mia che pacchetti che stiamo aprendo con Nei Martoti adesso è Ronaldo Hero prima mamma mia poi Di Maria Motme vediamo il prossimo pacchetto mamma mia che pacchetti cacca mamma mia guarda G2 93 quella è bagatissima Rami è bagatissima attenzione vediamo chi potrebbe uscire potrebbe uscire di tutto in questi ultimi pacchetti ecco due Motme più due Tots va bene beh buono Lopez Tots Defur Tots Touret e Victor Ruiz Tots prossimo pacchetto però mamma mia questo inizio di spacchettamento è una cosa epica Nei Martoti Ronaldo Hero due Motme mamma mia U A U A Cattermall di nuovo l'abbiamo in certo momento nello scorso spacchettamento unizio di Ubame Young vediamo in questi ultimi pacchetti ultimi due giocatori che possiamo trovare ultimi due Uuuu Griezmann e Thiago Silva Motme Griezmann e Thiago Silva Motme mamma mia che è schifo per adesso Muslera Slamo ooo i miei statuti Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Oddio! Prossimo pacchetto! Questo pacchettamento sta andando perfetto! Oh, il nostro caro amico baggatissimo Chananoglu! Bruno Per, Karan, Aduriz Swanet Thief! Lewandowski! Dovrebbe essere Info! Uuuuh, il terzo! Ed è pure nuovo questo! Trimotm! Mamma mia, che pacchetto! Che spacchettamento! Figurson Imotm! Dell'Islanda! Mamma mia! 3 Imotm! 2 Totti! Ronaldo Hero! Neymar e Inesta Totti! Suarez! Sif! Lewandowski! Mamma mia, che pacchetti! Che spacchettamento fino adesso! Giocatori! Giocatori forti! 3 Imotm! Li abbiamo mai trovati! Mamma mia, che pacchetti! Terzo pacchetto! Abbiamo ancora tantissimo tempo! Siamo solo a 9 minuti di registrazione! Sì! Attenzione! Oh! Pelle! Va bene! Attenzione! No! Neuer! Non l'ho visto! Ottimo! Neuer! Neuer! Un altro Hero! De Jong Hero! De Jong Hero! Attenzione! Quando è uscito non lo so, ma comunque c'è De Jong Hero! Dopo Ronaldo Hero, anche De Jong Hero! Però è meglio Ronaldo Hero, ovviamente! C'è anche Neuer! Prossimo pacchetto! Attenzione! Allora, è uscito e è apparso la schermata nera incredibile! E se era un po' buggato, ora è tornato su posto a funzione! Vediamo il prossimo pacchetto! Jajel Cam! Ma come si pronuncia quel nome lì? Bonucci! Uh! Lewandowski di nuovo! Perfetto! Oh! Mascherano Tots! Eccolo lì! E anche João Mario! Gioà un Mario! Gioà un Mario! Gioà un Mario! Gioà un Mario! Che spacchettamento! Mamma mia! Che giocatori che stiamo trovando! Che giocatori che stiamo trovando! Attenzione! Attenzione! Giocatori clamorosi! eh eh! Quattro mottom! Unritis! Oh! Quattro mottom! Messi tutti! Oddio! Linegar legenda! Lillinger leggiend! Messi tutti! E valesti le mottom! Quattro mottom! E tre tutti! Oddio mio! Oddio mio, quattro toti, no, tre toti, quattro motome e due leggende. Oddio mio, messi toti, messi novantanove. Mancano tre minuti alla fine, quindi ancora tre o quattro pacchetti. Mamma mia, messi toti, oddio, Olson Lichtenes. Siamo a sei, sei motome e tre toti. Questo è pur spacchettamento degli motome. Sei motome, tre toti, due hero e altri giocatori, anche tanti toffs. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Madonna, che spacchettamenti, che spacchettamenti incredibili. E sei bloccato. Cosa ti blocchi, non ti bloccare, maledetto te, ok. Abbiati, che non ce ne facciamo una abbiata minchia. Perfetto. Aferai, coca cinese, leno, portiere abbastanza... Leggenda ancora! Quindi siamo a tre leggende, sei motome e tre toti. Mamma mia, che spacchettamento. Maga l'ultimo, morata, mora. Quattro leggende, sei motome e tre toti. Ultimo pacchetto. Chissà se troveremo un altro toti. Ho un altro motome, così faccio il mio record del mondo di sette motome, vediamo. Dai che devo concludere, sbrigati! Dai fottuto i moti, i fut. Sbrigati! Sbrigati! Herrera! Pjanic, Michele Lopez... Oh, hero! Anche tre hero, è vero? Anche tre hero, perché c'è anche... Quello lì che è per caso un emotome, per favore, si è buggato tutto. C'è Hoolalan che non so se sia motome. Comunque, concludiamo il video. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!